È stato abbastanza facile come scelta, la mia priorità comunque era o il Monza o restare al Milan, quindi diciamo che è stato facile decidere di venire qua, sia per il Gagliani che per il mister, quindi sono contento, sono molto contento. È un rapporto bello, sicuramente mi stimola e mi aiuta in tutto e il fatto che lui sia qua è super importante, è fondamentale. Diciamo che sapevo che trovo una famiglia qua, braccia aperte, quindi sono super contento. Abbiamo e hanno raggiunto per due anni consecutivi la salvezza e quest'anno è l'obiettivo principale comunque, ma senza porsi i limiti ovviamente. Lo conoscevo da piccolino però non mi ricordavo molto la sua persona, però sono super contento che lui sia qua, che sia il nostro mister. Sicuramente fa effetto, però ho fatto pochi allenamenti, adesso ho fatto solo due o tre allenamenti, ma mi sembra avere delle grandi idee e poi come persona mi piace molto. In campo ci sono idee diverse, però caratterialmente il mister mi piace molto, quindi per ora solo in campo. Ho anche fatto veramente pochi allenamenti, ho visto ben poco, però i ragazzi mi hanno detto comunque l'idea del mister. La vedo bene, sperando di salvarsi il prima possibile per poi avere un rush o fare di tutto per arrivare comunque in Europa o avvicinarci a quelle posizioni là. Ovviamente uno spera sempre di fare più gol possibile, sperando di arrivare in doppia cifra sarebbe il mio obiettivo. Flaco ha fatto una stagione importantissima l'anno scorso, quindi speriamo di replicare o di fare meglio questa stagione qua.